Oliver Lodge Cerchio medianico K attraverso Marco a cura di VB domanda Che cos'è il robot astrale? Oliver Lodge, 1851-1940 Nel mondo astrale, il robot astrale ha la funzione di programmare e coordinare le vibrazioni delle entità comunicanti adattandole ai medium di alto profilo Del medium del Cenacolo K, Oliver Lodge, disse che è un mezzo molto duttile per cui attraverso di lui possono entrare entità di varia natura sia astrale sia mentale, oltre ad esseri molto luminosi che possono essere chiamati maestri Grazie a tutti